Coglie Maximovic la manda laterale ancora Lucas Leiva riceve il crosser sul centro Meret miracolo sul colpo di testa di Milinkovic Savic incredibile azione da gol per la Lazio che ora continua ad attaccare con immobile Luis Alberto riceve al limite l'area di rigore Lucas Leiva allarga ora il gioco per Luis Felipe servizio per Lulic attacca la Lazio in maniera pericolosa Lulic non trova sbocchi poi riesce a saltare un avversario servizio per Lucas Leiva siamo lontani dall'area di rigore manovra di avvitamento con Radu riceve Lukaku scambia con Milinkovic Savic Luis Alberto riceve scatta immobile il pallone per lui ma interviene Albiola a deviare in calcio d'angolo che va verso il centro guarda a sinistra l'apertura per Mario Rui che può controllare ecco il cross verso il centro Milink Questa Zilischi recupera il pallone ancora un cross deviazione Lulic è allontana incredibile tiro a volo di Milink Arcadius Milink coglie la traversa un tiro pazzesco del bomber polacco attacca ancora il Napoli con Malqui ecco Milink si scalda il San Paolo con questa prodezza di Milink con il suo sinistro al fulmicotone di Avarà Servizio quindi per Zilischi che parte un po' più indietro palla per Mario Rui pallonetto per Zilischi in area di rigore scavalcato Lulic il pallonetto al centro Milink palo di testa in tuffo il palo Fabian Ruiz il tiro fuori di poco incredibile Milink palo dopo la traversa Bravissimo anche Zilischi a mettere questa palla bellissima per Milink che non so con quale coordinazione in tuffo di tesa straordinaria era riuscito a trovare l'angolo alla destra del portiere che l'ha mandata lui sul palo non è stato direttamente palo è stata una bella parata di Stracoscia che comunque poteva finire anche nell'angolino perché non aveva dato la forza necessaria per mandare il pallone in angolo che c'entra avanti Milink la male anzi non la tocca proprio stava per avventarsi prima di lui Luis Alberto invece ci arriva poi Fabian Ruiz per la palla però viene manovrata male dal Napoli sulla sinistra finisce fuori e quindi rimessa laterale in favore della Lazio che però sbaglia ne approfitta subito Milink che riceve Mertens, Gagliano in aria il tiro gol 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 il terreno andaloso si è sbloccato è la prima del canaleревane di ritorno segna Gagliano al trentatresimo Napoli 1 Lazio 0 bravissimi quello che abbiamo detto un minuto fa che dobbiamo andare a pressare perché loro quando iniziano dal basso qualche errore lo commettono è successo devo dire la verità l'abbiamo detto un minuto fa è successo e il Napoli è stato bravissimo a verticalizzare subito e finalmente Cagliacone ha trovato l'angolo come faceva, come ci aveva abituato a fare quasi sempre tranne quest'anno ma ci aveva abituato ad essere preciso ed è stato precisissimo Cagliacone realizza il gol del vantaggio del Napoli, un gol importante vedremo quale sarà la reazione ora degli ospiti piove da qualche minuto al San Paolo e lì deve tirare Milik sì, c'è Mario Rui anche ma penso che tirerà Milik entrambi hanno segnato a Cagliari uno quest'anno e l'altro Mario Rui l'anno scorso vediamo come si metteranno d'accordo ma credo Milik che mi sembra stasera in serata quasi di grazia visto che ha preso una traversa ed un palo deviato però da Stracoscia il portiere va a sistemarsi come linea più o meno all'altezza del dischetto del calcio di rigore Mario Rui va via, rimane Mertens per un'eventuale soluzione a sorpresa con il destro ma batterà Milik lo possiamo dire senza dubbio un poco poco più avanti rispetto al dischetto ma spostati notevolmente sulla parte destra e quindi ci sarà il sinistro di Milik crediamo che Contei passi all'indietro come i regbisti fischia l'arbitro, parte Milik il suo tiro gol, 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 gol è scatenato, è un grande bomber, è un grande centravanti Arcadius Milik e il Napoli iscriviti al canale Paratic Sports 36 minuti e 40 secondi Napoli 2, Lazio a 0 è stasera fenomenale la prestazione di Milik ma sulle punizioni non lo sapevamo fino a Cagliari adesso lo sappiamo ma mi sembra scientifica l'esecuzione fa quel passo, carica il sinistro, è perfetta la rincorsa col corpo si posiziona benissimo il pallone gira che il portiere non può fare nulla se non sperare che non sia nello specchio la palla scende a una velocità dopo aver scavalcato la barriera impressionante mi sembra un non bravo, mi sembra uno specialista di primissimo livello ed era il terzo anno che a Napoli non lo sapevamo lo sappiamo da poco o da un mese pioggia al San Paolo ma anche pioggia di gol dopo 37 minuti una buona Lazio è sotto di due reti a 0 contro un Napoli che sta ottenendo quasi il massimo da ogni azione offensiva due gol, una traversa e un palo Milinkovic Savic per Lukaku che va al cross ma c'è Cagliari scatenato ovviamente saltato dalla realizzazione si è sbloccato finalmente che deve mandando la palla in fallo laterale laterale in favore della Lazio Lulic indietro Radu servizio centrale per Lukas Leiva quindi Bastos ricevere allarga sulla destra per Parolo l'immobile che viene anticipato da Maximovic serve anche Zilinski palla per Mertens che scivola ma per sua fortuna c'è Fabian Roets si allarga Milink Fabian Roets si inserisce il suo tiro traversa traversa incredibile di Fabian Roets è andato a battere Stracoscia ma ancora Riavara recupera il palone per Milink salta due avversari Milink il tiro Stracoscia calcio d'angolo stregata quasi quella porta se il Napoli non avesse già segnato due gol ma incredibile Fabian Roets che è stato bravissimo ha visto che non c'era il passaggio più per Milink è andato lui con un missile terrificante nulla da fare per il portiere salvato ancora una volta dal palo Napoli tonico che aspetta la Lazio e poi riparte fa male colpisce però le traverse davvero per un soffio questione di millimetri alla sinistra di Stracoscia c'è quindi il calcio di d'angolo in favore del Napoli mentre c'è qualche calciatore azzurro che va a riscaldarsi in particolare Goulam anzi Yusai 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 ecco il cross c'è quindi Correa che lo scambia con Lucas Leiva quindi Correa ancora lo gestisce con Milinkovic Savic che va da Luis Alberto alla per Correa viene attaccato da Maximovic c'è il fallo il calcio di punizione sì Maximo voleva fare fallo per andare a recuperare la sua posizione sì perché era in attacco per il calcio d'angolo Immobile apertura per Radu quindi Lulic riceve ecco il cross verso il centro Milinkovic Savic fermato poi c'è il tiro e la mia in agolo di Meret incredibile sul tiro di Immobile Immobile che tira è grande parata di Meret sì classica situazione pericolosa perché quando arriva Milinkovic Savic da dietro è difficile chiuderlo si sono affrontati lui e Maximovic ma la palla è rimasta lì Immobile come al solito è brava a cercare la posizione doveva cadere il pallone ma è stato bravissimo Meret Di Avarà riceve prova a scattare Mario Lui ma la palla va a Mertens scatta invece Milink anticipato però dal difensore Radu che allontana Di Avarà servizio per Mertens ancora il taglio per Cagliano nel fuorigioco di testa traversa traversa e beh si va a toccare il palo Stracoscia perché sono quattro i legni del Napoli ma incredibile quattro pali in una partita rivediamo forse veniva annullato sto gol ti devo dire la verità forse sì l'hanno fatta proseguire poi chiaramente se era gol andavano a rivederla eh sì sembrava al di là Zinischi Lazio che ora ci prova sempre con Correa passaggio per Immobile in area di rigore il tiro gol segna Immobile questa volta ruba il tempo ad Albiol non può fare nulla segna Immobile non l'abbiamo chiusa del tutto con il terzo e purtroppo si è riaperta con questa giocata classica di Immobile sulla quale non è che mi sento di fare molto critiche ai nostri difensori perché qui forse Albiol gli ha dato forse un metro di troppo ma lui è bravissimo quando attacca si libera e tira improvvisamente contro tempo lo sa fare vengono fatti tanti così cinque secondi poi il servizio indietro verso Stracoscia Bastos Parolo ancora indietro per Bastos le squadre si sono allungate si si macinano chilometri e ci sarà quindi stanchezza nel frattempo sbaglia l'appoggio la Lazio Caglion arriva sul pallone e c'è un giallo c'è un giallo per Acerbi e quindi rosso doppia munizione per Acerbi espulsione del centrale difensivo laziale che è intervenuto duro su Caglion che era in vantaggio sul pallone grande pressing del Napoli hanno rischiato con passaggio orizzontale quello che è arrivato più velocemente sul pallone è stato Cagliecon e Acerbi è stato costretto al fallo Cagliecon e Acerbi